Si è svolta questa mattina presso l'ospedale veterinario universitario di Teramo l'esercitazione Cerbero 2015. Si tratta di una simulazione in caso di evento sismico attraverso un dispositivo di sanità pubblica, congiunto del Corpo Militare Speciale dei Cavalieri dell'Ordine di Malta e la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo. Oggi qui abbiamo provato per la prima volta un dispositivo nuovo, sanitario nuovo, che prevede oltre la componente sanitaria classica anche una componente veterinaria che non solo ha la prerogativa del curare gli animali, ma anche del controllo di quello che è la sanità pubblica e quindi del controllo degli alimenti. E poi abbiamo sperimentato anche questa volta una seconda componente che è la componente farmacia, perché in una condizione critica sicuramente la possibilità di mettere a disposizione un dispensario è fondamentale. L'esercitazione conclude il Corso Regionale di Alta Specializzazione, denominato Emergenze Veterinarie, Percorso Medico Veterinario e Percorso Tecnico Veterinario. Noi abbiamo voluto dare la possibilità agli studenti del Corso di seguire e di imparare non solo le classiche emergenze veterinarie, cliniche o infettivologiche, ma soprattutto la parte anche legata alle emergenze cosiddette non epidemiche. L'operazione è quella di realizzare un dispositivo sanitario complesso di sanità pubblica, inteso come centro sanitario intermedio, unità di sopravvivenza dei feriti in posizione avanzata, primo soccorso e ricovero per gli animali coinvolti. Basta con dei tubi innocenti, con delle tende obbreggianti in caso di giornate assolate, oppure un piccolo tetto, si può fare un ricovero per confinare gli animali che altrimenti non avrebbero il luogo dove anche riposare. Noi abbiamo portato l'esperienza del territorio, essendo già stati impegnati sia in Irpinia che all'Aquila, e stiamo riproponendo ai ragazzi e agli studenti, preparandoli e formandoli, affinché non si trovino impreparati, come è successo molto spesso ai miei colleghi e ai nostri colleghi sul territorio, di fronte alle calamità naturali, epidemiche e catastrofiche.